Saludiamo tutti i tuoi fans che ti seguono Ciao a tutti i fans che mi seguono e alle mie fans Ecco, soprattutto ricordiamo sul web dove ti trovano? Sul web mi trovano, se fanno su Youtube, è importante cercare la serie PubRick 2.1 Una storia porno e troveranno un lavoro che ho fatto tanto tempo fa e mi è arrivato particolarmente fisco Io vi ringrazio, sei simpaticissimo, sei forte, un saludo a tutti Rock and roll e buon Natale e buon anno nuovo Buon Natale e buon anno nuovo a tutti Grazie, ciao